Vado a chiedere. Chi siete? Cercate qualcuno? Cerco un posto per dormire. Un posto per dormire? Guarda là, siamo già tutti uno sopra l'altro. Pensi ci sia posto anche per te? Ma è per mia moglie. È una donna incinta. Cosa? Pure. Senti, andate via. Cercate altrove. Ma ho cercato dappertutto. E' colpa vostra. Dovevate venire prima. E adesso andatene. Perché tanto per voi qui non c'è posto. C'è qualcuno disposto a darci il suo posto. Vi prego. È per una donna incinta. Maria, avrei dovuto fermarmi in quel villaggio lungo la strada.